C'erano un po' delle feste che si facevano a Borgaro in quel periodo. La festa del paese, Santi Cosme e Damiano, poi c'erano dei balli, mi ha raccontato questo. Una volta c'erano più feste che adesso, adesso con fronte loro, allora venivano tanti banchi, i torroni, le feste, l'autopista c'era, il ballo, mettevano il ballo in piazza, il ballo pubblico, e facevano una bella festa c'era nel paese. E allora va bene, adesso è un po' in fronte loro, adesso ci sono tutti i balli, non ne mettono più i balli pubblici quasi. Una volta in piazza c'era la piazza lì, in piazza pubblico, un po' dove avevamo il posto, c'erano le piazze, un po' di qua, un po' di là. Ussevamo la sera, quando c'era la festa, con mia zia andavamo a vedere la festa, facciamo un giro con le compagnie, con tutta la gente che conoscevano tutti. Ussevamo un po' la sera, poi dopo andavamo a fare, così. Pasciamo un po' la sera, poi dopo andavamo a fare, così. Pasciamo un po' la sera, poi dopo andavamo a fare, così. Grazie.